Siamo molto delusi, la mia categoria non può permettersi di lavorare solo a pranzo. Chiediamo a Alta Voce almeno di fare un passo indietro e poterci far lavorare fino alle 23. È questo che chiediamo. Indennizzi aiuti immediati, ne abbiamo estremo bisogno. Non ci sono tante parole da dire. Gianluca Baratto, presidente dei ristoranti di Vicenza, lo dice con profonda amarezza. Nemmeno il tempo di risollevarsi dal lockdown di primavera che loro, i ristoranti con bar, pasticcerie e pizzerie, e vedono cancellato ogni sforzo, come puntualizza anche il presidente di Confartigianato Vicenza, Agostino Bonomo. Vengono penalizzati una seconda volta perché sono state le categorie che hanno avuto la massima penalizzazione anche durante il primo lockdown di marzo. Pasticcerie, bar, pizzerie e ristoranti trasformati con un DPCM in un tori, senza che vi sia una chiara evidenza scientifica e nonostante lo sforzo per rendere sicuri i propri locali. Quello che noi sembra è che il governo non sia in grado di mettere in campo una situazione di controllo fuori da questi locali e vada a penalizzare queste attività.